Oh E' lui? Si Diciamogli qualcosa No, non farlo Lui è un umano, io sono una serena Non so cosa penserebbe Cos'è quello? Oh, deve essere suo Ma come facciamo a prenderlo? Uff E ci serve magnetera Che fortunatamente Abbiamo già E quindi dobbiamo tornare un'altra volta Dentro il mondo Perché ci caccia ogni sannata volta Mamma mia E dobbiamo rifare tutto quanto Bisogna tornare Mi sembra da Ariel adesso Per parlarle E prendere Quel che dobbiamo prendere E basta Però fortunatamente Beh, siamo quasi arrivati alla fine Che ci crediate o meno Allora, Ariel Sora, sembra che ti abbia acquisito Un bel po' di esperienza Potreste aiutarmi con quel ciondolo? Subito Ariel Capitolo 4 La vendetta di Ursula Ceci è un'ottima È un'ottima Soro C'è un'ottima Soro Mi sento che lui sarà felice E chi è questo? Padre! Ariel, tu sai quanto sono pericolosi i humani! Tu non lo conosci! Padre, tu mi hai detto che non ti confiisci ai humani, ma non possono essere tutti così mali come tu dici. E io... E io farò provare a te! E io farò provare a te! E io farò provare a te! E se questo è il solo modo, così... No! Ariel, povera piccola! Tu sei Ursula, la storia del mare! Mio padre non ti aveva cacciata! Esatto, dolcezza! Ma come potevo non tornare? Sapendoti così triste, ti serve l'aiuto di una donna! Cosa diresti se potessi realizzare tutti i tuoi sogni? Mio padre non lo permetterebbe mai! Beh, allora non è amore se ti arrendi così facilmente! Puoi... Puoi davvero aiutarmi? Ma come? Beh, l'unico modo di ottenere ciò che desideri è diventare tu stessa un'umana! Un'umana? Puoi fare una cosa simile? Mia cara dolce bambina, è la mia specialità! È terribile! Flounder, voglio dirlo al re! Va bene! Siamo d'accordo? Ti trasformerò subito! In un'umana! Non serve far altro che firmare un contrattino! Un contratto? Esatto, pasticcino! È il prezzo è una sciocchezzuola! Voglio soltanto... la tua voce! La... la mia voce? Quasi dimenticavo! La magia dura solo per tre giorni! Dovrei farti baciare dal tuo caro principe prima che il sole tramonti sul terzo giorno! Se non ci riuscirai, tornerai a essere una sirena! E sarai mia! Immagino che tu trovi le mie condizioni un tantino severe! Dopotutto, sei la figlia di Retritone! Adorata da tutta Atlantica! In pratica, avresti la velocità assicurata! Sicuro di non voler dare retta al tuo paparino? Rinunceresti al tuo grande amore! Forza tesorino! Questa è la tua ultima occasione! Ma... lungi da me, volendo... Non riesco a leggere, scusatemi! Ma lungi da me volerti influenzare da in qualsiasi... Avete letto? Bene! Non dirle letto a Ariel! Non dirle letto a Ariel! Bene, ora! Non nemmeno introdurare più lungo! E sarò sul mio cammino! Ovviamente non vuoi la mia scuola! È troppo male del tuo prince, però! È abbastanza una scuola! Aspettate! All che ho dovuto fare è signare? All che ho dovuto fare è signare? Aspettate! 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 Oh non! Quelli non venta in tratto! Come zumalare... Ahahahahaha! Sei la chica? Sì, si wake up. Wow, è facile. what's wrong you can't speak oh well where did you come from Questo è il mio pendente. Non mi credo che hai trovato il mio. Grazie. Sì, vieni con me. Voglio te aiutare. Sembra che tutto proceda piuttosto bene. Non dovrò parlarne a Rettritone? Assolutamente no! Gli spezzerebbe il cuore se lo venisse a sapere. Allora cosa facciamo? Rimaniamo qui e non togliamo gli occhi ridosso da Ariel. Ecco cosa facciamo. Immagino che non ci sia altro da fare. Immagino che non ci sia altro da fare. Allora... Beh, andiamo subito a parlare con Sebastian. Devo andare a vedere come sta Ariel. Vai da Ariel? Andiamo. Allora siamo qui a guardare. Hai un'idea migliore? Potremmo chiedere a Ursula di sistemare tutto. Ah, non vi darà mai ascolto. Ehi, come fai a starne certo se non ci proviamo? Potreste avere ragione. Sembra meglio che rimanere qui a... A che le concerte a non fare niente? Posso stare tranquillo? Ci pensierete voi? Ma certo. Dopo... Sì, dove è Sebastiano? Uh, well, King Triton ha detto che era nel palazzo. Mi chiedo se sia per Ariel. Se King Triton trova cosa succede, ci siamo in acqua, soprattutto se ci stavamo un segretto. Che cosa per Ursula? Si è disapevole! Well, come si è Ariel? Si è solo arrivato fino a la mattina, certo? Hey, guarda! I can't see! They're okay. Man, they were so close. Well, I think we ought to get back to looking for Ursula. Yeah, good idea. No sign of Ursula anywhere. I wonder where that sea witch could have gone. Ariel's been crying for a long time. What would I give to live where you are? What would I pay to stay here beside you? What would I do to see you smiling at me? Where would we walk? Where would we run? If we could stay all day in the sun? Hey, what's up with the prince? Look, there! Just you and me. And I could be... It's Ursula! She must have turned herself into that girl! Okay, that's it! What? What happened? Erick! You... You... You can talk. You're the one. The girl who sang to me. Oh, Erick. I wanted to tell you. Of course. It was you. You're the one who... Who saved me that night in the storm. Oh. Ariel. I'm sorry I didn't figure it out sooner. You're the one I love. Erick. Not so fast! Do you see what I see? You're too late! No! Ariel! Stop! Stay out of this, you fools! Triton's precious little daughter signed a contract! Now, dearie, let's see how beautiful you are when I'm through with you! That contract's no good! Let her go! Excuse me! Now, now, even the great King Triton can't go around breaking binding contracts. Why, it just wouldn't do, would it? Now, if you'll excuse me, I have some loose ends to tire. Wait, Ursula. You win. Just promise you'll let my daughter go. But we had a deal, unless, of course, you're offering to take a place. I'm afraid I have no choice. Your Majesty! You're lost! Shut up! Ah! 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 At last! Daddy! Ah! Who's the mighty ruler of the seas now? You... you monster! Let him go! Ah! Eric! How dare you! Pitiful, insignificant human! Hey, that's enough! Ah-ha! Now you're all about me! Sconfiggi Ursula! Premi X velocemente per sconfiggere Ursula! This witch is back to bring her rack up on the sea! Triton can't be rid of me! Not that easily! And like all we dare define him, he will learn his lesson well! Never toy with a guy like me! You've got what you deserve! Flop some! And get some! I don't think so! I don't think so! What a feeble human! No, I can't believe my eyes! Such a stubborn royal who is fighting for his prize! Without your precious mermaid, now you're crazy with revenge! I suppose I sympathize! I'm not gonna lose her! I'm not gonna lose her! I'm not gonna lose her! Right! We'll win you all the way! Right! We'll win you all the way! Right! We'll win you all the way! Flop some! And get some! Flop some! And get some! Boy, oh darling! Strong as the tide! Sweet as poopsies! Hasten to my side right now! y'all let us save ourselves! Oh! Mommy, need you to smash those stupid fools! Make them ROAR! Sorry, Mommy! Your groupies are toast! This is not the end, my dear. I swear I've just begun! It's not over until Ur-sama has won! COMPLETATO! This is what you think! No, it's not possible. It's over, Ursula. That belongs to me! All right, then. You can have it! Please, Ariel. You can come out now. It's okay. Ariel? You see, Eric? This is why I went to Ursula. This can't be. I would have told you sooner. To think. Eric, goodbye. I had all that time, and I didn't work on my swimming. Huh? Well, I guess it's never too late to learn, right? Will you teach me? I'd love to. All right! I'd love to. Il principe Eric è un bravo ragazzo, ed è anche molto coraggioso. Sì, ma è un umano! Oh, dai! Basta! Come è andata con tuo padre, Ariel? Benissimo, grazie per l'aiuto. Allora devo andare. Ai più tardi. Ehi, aspetta. Quasi dimenticavo, Sebastian. Il retritone, nè, ha detto che il festival di quest'anno è molto importante. Perciò si aspetta che lo spettacolo sia più bello del solito. Più bello del solito? Ehm... E va bene. Cosa c'è? Dovete farmi un favore. Che cosa? Eh? Ma come? E avrebbe anche reso la canzone perfetta. E ci serve Tandaga per realizzare l'idea di Sebastian. E già che ci siamo, che ce l'abbiamo perché ricordo che Tandaga si prende finendo il secondo episodio delle Terre del Branco, che stanno qui, bene. Voglio parlarvi di una piccolezza. Praticamente tutto quello che fate nei precedenti Kingdom Hearts è rimasto come ricordo effimero. Esempio. Ariel si fida nuovamente di Ursula. Ok? Il retritone cade nuovamente nella trappola di Ursula. Ariel è scema e ricade nella trappola di Ursula. Ripeto questo concetto perché è successo nel primo Kingdom Hearts. Ok? In pratica Ariel è scema e il retritone è un imbranato. Fatemelo dire. Mi dispiace. Ariel sei cretina. Allora. Un'ultima cosa da fare. Per l'ultimo spettacolo. Spoiler. È l'ultimo spettacolo. Io equipaggio sempre l'abisso misterioso. Perché? Perché è carino. Fine. È ovviamente meno potente della testa di zucca. Ma. Potenza della magia. Quindi. Di poco se non sbaglio. Perché anche il Porta Fortuna dovrebbe essere. Ah giusto. Non possiamo vedere le fusioni. Comunque. Anche il Porta Fortuna dovrebbe essere. Sì. Appunto. Ha la stessa potenza del Porta Fortuna. Sì. Ma aumenta i danni di elemento gelo. Quindi Blizzard. Del 20%. Infatti. Vedrete poi. Comunque. Parliamo subito con Sebastian. Dato che abbiamo Tandaga. E. E. Ora ci riesci. Il nostro spettacolo sarà perfetto. Inoltre non riesco a parlare. Tanto. Perché. A quanto pare. Non so più leggere. Comunque. Questo video sarà diviso a metà. Da qualche parte. Adesso non so dove. Sì. Cominciamo. Capitolo 5. L'alba di un nuovo giorno. Ottieni più di 30.000 punti. In questa prova si usano tutte le barre. Attenzione. E non bisogna premere i tasti quando nella barra c'è Sebastian. Si. Ok. Si. E. E. Alla fine. Come prince, a human prince will live so far above The issues really can come true If you want them to And this happiness inside I owe to every one of you How about you introduce us to these lovely friends of you Take a bow, Donald, Goofy, and Sora That blocks me as her siplices to you You found your first love and he found you too We were glad to help you out and very proud, it's true Seeing how he met your friend just makes this land a gorilla fan Wishes really can come true If you want them to And this happiness inside I owe to every one of you You'll be so kind to introduce the king and these his loyal friends Please say hello, Daddy, Sebastian, Alder Ariel, I'm so happy for you Yes, happy endings are so rare and so few We were glad to help and very proud, it's true Seeing how he met you from the next one And the other friends of yours that might be waiting in the wings Come say hello, all my friends from every corner of the world A new day is starting by the happy age of new beginnings I can sing We're going to give you joy and peace of harmony Fairy tales and miracles of what we're singing of I've been Princess Anne, I've been crying for my time I've been happy and forever after Full of joy and love Completato I've been happy and love Sora, what's happening? A new pathway has opened What? You're going to go? Is this goodbye? I won't do it We'll never say goodbye That's right One, two, three, four Even though we're hitting the road Our worlds are all connected Which means We are free to come and go And sing So don't be sad And always know We'll come back soon To say hello Atlantica Atlantica E basta Abbiamo completato Atlantica E detto questo Io tecnicamente ho ancora 30 secondi di video per salutarvi Quindi Mi dispiace se ho dovuto dividere il video Ma Non riesco più a caricare i video più lunghi di 40 minuti E' un grosso problema Ma è così Detto questo Ci vediamo nella prossima parte dove andremo a fare Esatto Winnie the Pooh Quindi io vi saluto e ci vediamo Alla prossima Dolce Mieli a tutti